Ciao, oggi, il piccolo Leo, trascorre la sua giornata con nonna Marina, giocando con lei a nascondersi, e fingendo di essere una mummia. Intanto mamma Chiara inaugura la sua nuova collezione e il nuovo sito web. Vi lascio al video, buona visione. Ma è un fantasma il patato. Mamma mia, io c'ho paura. Io sono una mummia. Una mummia. Baci! Ciao! Ciao! Baci! Ciao ragazzi, sono troppo contenta perché è online la nuova collezione e soprattutto anche il nuovo sito di Chiara Ferragni, del mio brand. Spero vi piaccia tutto quanto, potete fare swipe up e vedere tutto. Guys, I'm so excited. Chiara Ferragni new collection and the new website are up, so please check it out and let me know what you think. You can just swipe up here. There are so many cool new products. I'm so comfy in my office, but I'm wearing socks. And this is my look today. Like that. No. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.